Detenuti costretti a fare la fine del topo. Il Covid corre veloce tra le mura delle carceri, agevolato dalle condizioni di sovraffollamento e ha già ammietuto delle vittime. In Italia sono circa 900 detenuti positivi. Il Covid è presente in almeno 83 dei 192 penitenziari della penisola ed è veicolato dagli unici che possono entrare e uscire dal carcere. Sono oltre mille i contagiati tra agenti di polizia penitenziaria e operatori. In Abruzzo la situazione più critica al momento è quella del penitenziario di Sulmona. Qui lo scorso weekend i casi di contagio erano 16 ma ad oggi ne sono già 66 ovvero il 20 per cento della popolazione reclusa. Sono 387 i detenuti di Sulmona a fronte di una capienza del penitenziario di 329 unità. Il sovraffollamento quindi raggiunge quasi il 120 per cento e il rapporto tra capienza e numero di reclusi è più o meno lo stesso in tutte le carceri abruzzesi. Il sovraffollamento oltre a imbarbarire ancora di più le condizioni detentive crea in primis un problema di spazi. Mancano i luoghi infatti dove poter isolare i detenuti positivi e dove effettuare il pretriage dei nuovi ingressi. Questo fa delle carceri una bomba orologeria. Abbiamo ancora impresse nella mente le immagini dei penitenziari in fiamme durante le rivolte di marzo. Rivolte che si conclusero con 14 detenuti morti, 9 è solo a Modena dove 5 morirono nel penitenziario e 4 durante il trasferimento. Per cui le cause del decesso sono ancora da chiarire in questo silenzio assordante. Nei decreti ristori sono previsti eventuali aumenti dei permessi premio e la possibilità di scontare a casa gli ultimi 18 mesi di pena. Un dietro front rispetto alla sospensione dei permessi decisa dal DAP a primavera. Ma mentre in Parlamento si discute sull'efficacia delle misure adottate la situazione è sempre più critica. Il garante nazionale dei detenuti Mauro Palma e la radicale Rita Bernardini da 20 giorni in sciopero della fame insieme a molti detenuti chiedono la liberazione anticipata speciale. Non si tratta né di amnistia né di indulto ma di allungare lo sconto di pena previsto ogni 6 mesi dagli attuali 30 giorni a 45 giorni. Ma solo per i detenuti che si comportano bene, quelli cioè che non si ribellano. E non è solo il sovraffollamento, la piaga dei carcerati. Lo stato d'emergenza è l'occasione per isolare ancor di più i reclusi. Sono infatti limitati i colloqui familiari con gli avvocati, vi è la censura della corrispondenza e la chiusura delle celle e gli imputati possono partecipare ai processi solo in videoconferenza. Insomma sono state estese anche ai cosiddetti comuni le misure del 41 bis rendendo molto complicato per chi è fuori sapere cosa accade all'interno del carcere. In Abruzzo la situazione al momento è talmente ingestibile che i nuovi detenuti vengono dirottati verso altri penitenziari, specialmente quelli del vicino Lazio. Stando ai provvedimenti emessi dall'inizio della pandemia, che nulla hanno potuto contro il vertiginoso aumento dei contagi, il covid scavalca le mura perimetrali, supera il filo spinato, attraversa le sezioni e si insinua tra le sbarre mentre i detenuti, ammassati nelle celle, ultimi tra gli ultimi, sono abbandonati al loro destino.